Il Consiglio metropolitano ha approvato importanti provvedimenti in un clima di grande collaborazione istituzionale. È stato un Consiglio metropolitano assai fruttuoso, basta andare a vedere nel dettaglio le delibere approvate, si comprende la forza istituzionale che è stata messa in campo in questo periodo, tante delibere che ho anche fortemente voluto e che oggi sono passate in Consiglio, se pensiamo al dissesto idrogeologico, alla protezione civile, ai teatri, veramente una strategia istituzionale importante, un ruolo politico forte della città metropolitana e un dialogo istituzionale che continua a reggere tra le forze politiche, quindi mi sembra veramente il modo migliore per far vivere una città metropolitana che dalle istituzioni centrali è stata piuttosto abbandonata.